Ondata di furti nel popoloso quartiere di Villa Pozzoni a Giulianova, dove in pochi giorni sono stati diversi i colpi messi a segno nelle abitazioni. In alcuni casi, inoltre, i proprietari sarebbero stati narcotizzati, raccontando di essersi svegliati con forti mal di testa. I carabinieri nell'incontro avvenuto ieri con l'associazione di quartiere hanno annunciato di aver intensificato i controlli, soprattutto nelle ore notturne, ma i residenti non escludono la possibilità di organizzarsi anche in autonomia per contrastare il più possibile il fenomeno. Purtroppo non è la prima volta che a Villa Pozzoni avvengono dei furti e i residenti protestano anche per la scarsa illuminazione pubblica che, a loro dire, facilita le incursioni notturne dei ladri. C'è stato un incontro col comandante della compagnia che ci ha rassicurato dicendo che faranno più controlli. Certo, la situazione delle forze dell'ordine non è tale che possono esserci controlli H24, però l'assicurazione del comune di avere una maggiore illuminazione degli spazi esterni e dei carabinieri di maggiori controlli ci rassicura, anche se abbiamo notato che i malviventi non si spaventano né delle luci né dei controlli ripetuti. Nel tardo pomeriggio, anche con le persone a casa, anche a volte con cani, quindi hanno narcotizzato anche dei cani o di notte hanno usato il narcotico, pensiamo che siano più elementi perché agiscono in modo differente. Comunque i cittadini si stanno anche organizzando con la vigilanza privata. Speriamo che l'ondata di Furti, che non riguarda solo Villa Pozzoni, finisca presto. Siamo preoccupati comunque. Ci sono telecamere private che hanno ripreso i soggetti mentre entravano dentro le abitazioni, peccato che non siano molto riconoscibili, una videosorveglianza più ampia potrebbe aiutare le forze dell'ordine, certo che queste persone non si fermano davanti a nulla. Occhi aperti, prudenza, cercare di adottare i comportamenti degli allarmi se ci sono, tenere le abitazioni illuminate, avvisare le forze dell'ordine quando c'è un qualsiasi dubbio.